Giovedì 29 novembre verrà trasmessa, in prima serata su Rai 1, la sesta e ultima puntata della fiction L'Allieva 2 con protagonisti Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. Dalle ore 21,20 saranno trasmessi gli ultimi due episodi di questa seconda serie che sta riscuotendo un grande successo di pubblico e ascolti con una media costantemente superiore ai 5 milioni di spettatori, pari ad uno share che oscilla tra il 22 e il 24%. Per i tantissimi fan della fiction, però, è giunto il momento della resa dei conti finale e quindi bisogna scoprire la verità e soprattutto quale sarà la scelta finale della bella Alice, ancora confusa dal punto di vista sentimentale, video virgola spoiler L'Allieva 2, la trama dell'ultima puntata del 29 novembre Alice e Claudio divisi le anticipazioni riguardanti la sesta e ultima puntata dell'Allieva 2, in onda giovedì prossimo in Prime Time su Rai 1, Rivelano che la situazione sentimentale tra Alice e Claudio sembra migliorare lentamente.I due riescono a ritrovare un po' di serenità e addirittura vedremo che Conforti confesserà ad Alice di voler conoscere i suoi genitori così da rendere ufficiale il fidanzamento. Punto una proposta decisamente inaspettata per Alice, la quale rimarrà un po' interdetta e forse non del tutto convinta. Tuttavia questa armonia che si è venuta a ricreare tra Alice e Claudio verrà spazzata via dall'indagine sulla terribile aggressione nei confronti di Galli Garis verificatasi all'esterno dell'istituto. Punto il vice questore verrà ferito gravemente e, ovviamente, questo episodio non passerà inosservato. Alice e Claudio avranno idee diverse e contrastanti su come portare avanti le indagini e finiranno per avere un nuovo durissimo scontro. Punto il ritorno di Arthur e la proposta che spiazza Alice e gli spoiler di questa sesta e ultima puntata dell'Allieva 2, video, rivelano che queste incomprensioni finiranno per creare un nuovo distacco tra Alice e Claudio, i quali si allontaneranno nuovamente. Nel frattempo, però, la bella allieva dovrà fare i conti anche con il ritorno in punta di piedi del suo ex fidanzato Arthur. Quest'ultimo non mollerà la presa e confesserà ad Alice di volersi trasferire nuovamente a Roma per starle vicino e recuperare così il loro rapporto. Insomma Alice sarà sempre più confusa ma in questa ultima puntata della fiction anche per lei arriverà il momento della scelta finale. Di sicuro con Claudio sarà molto difficile recuperare il rapporto in virtù della crisi che stanno vivendo.